buoni amici oggi in best top vi portiamo una lista delle migliori tastiere da gioco sul mercato migliora la tua precisione in ogni gioco con tasti più comodi resistenti e con un ottimo rapporto qualità prezzo vi mostreremo i migliori venditori i più economici e con la migliore tecnologia nella descrizione e nel primo commento ci sono i link per l'acquisto dove puoi controllare il prezzo le caratteristiche e le offerte disponibili sei pronto eccoci nella top 1 dead gem partiamo forte con l'opzione più economica della lista che di solito è intorno ai 25 euro un modello moderno e robusto ha un sistema di feedback luminoso che lo rende fantastico è adattabile a qualsiasi tipo di gioco realizzato con materiali metallici che lo rendono molto resistente alle cadute agli ulti a tappi rivestiti di uv che forniscono comfort e convenienza a una porta usb con funzione di controllo del colore della retroilluminazione a led regolabile con livelli di luminosità potete scegliere un effetto preimpostato o personalizzarlo per adattarlo alle impostazioni del vostro computer evidenzia la capacità di cliccare simultaneamente su più tasti a 19 tasti non contrastanti e 12 tasti della tastiera multimediale inoltre alla tecnologia anti ghosting che riguarda più tasti che lavorano simultaneamente fornendo una risposta veloce al gioco potete usarlo per giocare e per qualsiasi tipo di lavoro senza problemi in breve una tastiera da gioco molto completa che alla valutazione positiva di più di 4.600 utenti e quindi possiamo solo raccomandare il suo acquisto nel link della descrizione nella top 2 mars gaming continuiamo con un modello economico di una marca con una grande reputazione e qualità questo è un modello compatto tkl con pad numerico incluso che vi offre tutte le possibilità di una tastiera standard in una dimensione ridotta e quindi approfittando delle sue possibilità alla tecnologia hmec che ti offre una combinazione di tastiere meccaniche e membrana per offrirti prestazioni ottimali e adattarsi al tuo modo di giocare in ogni momento a un sistema di illuminazione led rgb con diversi profili personalizzabili e molteplici effetti per ottenere l'illuminazione desiderata realizzato con un avanzata tecnologia full anti ghosting con interruttori che garantiscono la massima precisione e durata inoltre a un chip di visione integrato ad alte prestazioni mcu questo modello è dotato di un doppio cavo rinforzato in nylon ultra resistente e di usb placcato in oro per garantire una connettività veloce e precisa con una valutazione di 4,3 su 5 stelle e il prestigio del suo marchio questa tastiera da gioco è uno dei migliori rapporti qualità prezzo ricorda che ai tutti i prezzi le offerte e le opinioni nei link della descrizione e nel primo commento del video nella top 3 redragon k 585 entriamo nella fascia media con una delle migliori marche del mercato questo modello elimina le chiavi extra e mantiene quelle più utili in un pacchetto sottile e portatile tutti i tasti di azione sono in una posizione comoda il croccante click tattile degli interruttori blu ti permette di padroneggiare più facilmente il ritmo del campo di battaglia ci sono sette tasti macro programmabili così si possono collegare più comandi e attivarli rapidamente assegnate sequenze di tasti singole o multiple a qualsiasi tasto macro per risparmiare tempo prezioso nel mezzo della battaglia ci sono cinque modalità di retroilluminazione rgb gli effetti di luce sono sorprendenti dando grande visibilità al buio è progettato ergonomicamente per ridurre la tensione muscolare ridurre la pressione sul polso e migliorare la postura a un poggiapolsi magnetico staccabile che offre un grande supporto per rendere il suo uso più confortevole un modello comporta usb tasti stampati a iniezione a doppio colpo e incisi al laser il che lo rende eccezionale porta a casa questo modello e scopri un nuovo modo di goderti i tuoi giochi ovunque tu voglia il suo design la resistenza la luminosità e il prezzo lo rendono la migliore opzione nella sua gamma nella top 4 gaming kernel tkl se lo spazio e l'efficienza sono importanti per voi questo modello di kernel per meno di 50 euro può essere un ottimo acquisto si tratta di una tastiera meccanica che fa a meno del tastierino numerico aggiuntivo per offrire una velocità di digitazione più rapida permettendo di eseguire più azioni in meno tempo a un'illuminazione rgb su ogni interruttore e 9 effetti luminosi completamente personalizzabili dove è possibile cambiare la velocità e l'intensità di ogni effetto e riconoscere ogni tasto a colpo d'occhio grazie all'intensità della sua illuminazione led la sua opzione gaming mode si distingue disattivando il tasto windows per un maggiore comfort inoltre ha un sistema anti ghosting e 11 tasti multimediali che vi faranno godere i vostri giochi con più velocità ha un cavo intrecciato per una maggiore durata e resistenza la sua porta usb è placata in oro per migliorare la sua connessione con una valutazione di 4,1 stelle su 5 è la migliore opzione nella sua gamma e all'approvazione di quasi 2000 utenti che l'hanno già testato quindi ne consigliamo l'acquisto e infine nella top 5 il riser hansman elite se siete molto esigenti con i tasti della vostra tastiera e la sua velocità questa opzione ad alte prestazioni di riser è un best seller una tastiera da gioco con interruttori optomeccanici che permettono una digitazione fulminea e fino a 100 milioni di battute senza problemi è dotato di una barra stabilizzatrice nella parte superiore dell'interruttore che assicura che il movimento del tasto rimanga livellato e coerente indipendentemente dalla parte del tasto che si preme godetevi la solita risposta tattile di una tastiera meccanica senza resistenza durante l'attuazione mantenendo la leggerezza e l'equilibrio di ogni battuta dispone anche di un quadrante digitale multifunzione che permette di impostare tutto dalla luminosità al volume con i suoi tre tasti multimediali sensibili al tocco tutto questo può essere programmato e personalizzato con synapse 3 la tastiera ha un poggiapolsi magnetico ergonomico che si adatta alla parte anteriore della tastiera ed è fatto di morbida pelle sintetica per il massimo comfort da best top vi consigliamo questo computer ad alte prestazioni con il quale potrete godere di un'esperienza eccezionale dalla comodità del vostro salotto ai dubbi su qualche modello scrivete nei commenti e li risolveremo al più presto grazie per essere rimasto fino alla fine se ti è piaciuto il video sostienici con un like e ricordati di iscriverti per vedere altri video dei migliori top sul mercato alla prossima